Bentornati e benvenuti all'ascolto dei miei audio riguardanti le Olimpiadi di Tokyo 2020. In seguito al ritiro da parte dell'atleta statunitense Simone Biles, si è espresso sui social anche il cantante canadese Justin Bieber, il quale ha affermato che è orgoglioso della scelta che lei ha fatto. Ha proseguito dicendo così, «Nessuno capirà mai le pressioni che affronti, so che non ci conosciamo, ma sono così orgoglioso della decisione che hai preso». Il motivo è chiaramente legato al problema della sua salute mentale dovuta ai continui abusi di cui è stata vittima da parte del medico della squadra che lei praticamente ha frequentato fino dall'infanzia. Bieber continua scrivendo che non ha senso conquistare il mondo intero ma rinunciare alla propria anima. Dice che a volte i no sono i più potenti dei nostri sì e per questo è importante che ognuno sappia prendere le decisioni in modo consapevole perché quando ciò che normalmente ami inizia a rubarti la gioia è importante fare un passo indietro per valutare il perché. Il bisogno di fermarsi del resto l'aveva vissuto anche Bieber raccontando i suoi problemi di depressione, l'incapacità di gestire il successo raggiunto da giovanissimo e la necessità di uno stop per dare la priorità al suo benessere. Simone poi ha disposto ai tanti messaggi sui social scrivendo che l'amore e il supporto che lei ha ricevuto e che gli hanno dato le ha fatto realizzare che vale più dei suoi successi e della sua ginnastica una cosa in cui lei non aveva mai creduto prima. Bene, vi ringrazio per l'ascolto, vi invito a lasciare un like o anche a iscrivervi al canale per essere sempre aggiornati sulle ultime news. Grazie. 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 Grazie.